La Resistenza si festeggia in Italia. Il 25 aprile è la festa della liberazione italiana. Non si festeggia a Praga. Per una banale considerazione, l'Italia ha conosciuto la dittatura fascista, non quella del proletariato. Anche io a Praga ho reso omaggio a Jampalak, in piazza San Venceslao, proprio nel luogo del suo sacrificio. Ma era luglio, non il 25 aprile. A tanti anni di distanza, la lotta di liberazione si sottrae a qualsiasi facile schema celebrativo. Rifiuta di essere imbalsamata, ma conserva intatta la sua carica polemica e il suo messaggio di speranza. Roberto Battaglia